Pomodori a pezzettini. Li mettiamo in un contenitore e li lasciamo da parte. Sono circa tre etti, tre etti e mezzo di pomodori. Poi ho preso una bella cipolla, l'ho fatta a pezzettini molto piccoli e l'ho messa da parte anche questa. Il peperone idem, quindi puliamolo, laviamo, puliamo, a quadretini mettiamo da parte. Oggi si mangia pesce. Ho preso del filetto di nasello, io avevo questo surgelato, voi quello che avete, non c'è problema. L'ho messo in un contenitore e ho iniziato a mettergli sopra i pomodori, il peperone, la cipolla, non va nel forno ancora, erba cipollina, una bella manciatina di erba cipollina, uno spicchietto d'aglio a pezzettini dentro, guardate che esplosione di colori, zenzero fresco, sale, pepe, prezzemolino e giriamo. Ah no, manca il limone, scusate, il limone, un bel limone spremuto e un cucchiaio d'olio. girate senza arrivare a toccare il pesce, non lo uccidete tanto è già morto. Quindi girate, girate e lasciate marinare in frigorifero perlomeno da mezz'ora in su, ecco, se riuscite anche un po' di più. Nel frattempo prepariamo il resto, quindi ho preso due cipolle, una rossa e una bianca. l'ho fatta a fettine e lasciate da parte. Ho preso un paio di patate, l'ho fatta a fettine, l'ho messa da parte. Teglia da forno, quindi questo lavoro dovreste farlo quando state per togliere dal frigorifero il pesce. Teglia da forno, forno acceso a 180 gradi, base di cipolla, poi patate, sale e pepe, le spezie sono a nostro piacere, quello che più vi piace mettere, mettetelo. E poi le adagiamo sopra il nostro pesce, che nel frattempo si è scongelato, nonostante sia stato in frigo, perché gli abbiamo fatto la copertura, quindi la bella copertina di tutte le verdurine. Guardate quanti colori! Prendete tutto l'intingolo e butta scaraventateglielo sopra! Quindi tutto sopra per bene, adesso sì che si ragiona, ecco qua, così avremo il secondo col contorno. Carta forno, carta stagnola e via al calduccio, in forno, 180 gradi per circa mezz'ora con la copertura. Poi togliamo la copertura, lasciamo dai 15 ai 20 minuti, dipende quanto serve per asciugare un pochino l'acqua del pesce. E questo è il risultato! Eh? Buono, colorato, meraviglioso! Io come sempre vi aspetto alla prossima! Ciao, ciao!